La sicurezza sul lavoro è un argomento importante che è l'ABC, è indispensabile ricordarsi che il nostro lavoro può essere anche molto pericoloso. Tutti i giorni lavoriamo con i coltelli, chi con la fiamma o comunque con il calore, quindi i pericoli sono abbastanza lì vicino a noi. Le macchine ci aiutano tantissimo, possono essere anche molto pericolose, però lì la macchina difficilmente sbaglia. Purtroppo è l'uomo che magari in maniera distratta o disattenta o magari in maniera frettolosa dicendo ma tanto io sono intelligente più della macchina e mi fermo prima e lì accade invece l'errore. Andiamo sempre di corsa in cucina e questo è chiaro, però ci sono momenti in cui bisogna rallentare per forza, è anche insabile che venga prima la velocità che la sicurezza.